...primo calcio d'angolo Empoli che però ha dovuto sostituire il difensore bomber Antonelli che si è in futuro a suo posto di prima, numero 19, nuove presenze, un gol la battuta dalla bancherina è Palano De Santis, poi viene aiutato dai compagni di reparto la palla viene a lotterà ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.